Un immigrato tunisino di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato di estorsione aggravata nei confronti di un sacrestano di Cremona. L'arresto è scattato al termine di un periodo di osservazione e pedinamento concordato con la procura in una delle piazze centrali di Cremona ed è stata la fine di un incubo. Il sacrestano alla fine di aprile si era presentato ai militari dell'arma per raccontare quel che gli era successo. Il tunisino pregiudicato è residente a Venezia e abituato a venire in treno a Cremona per trascorrervi il fine settimana per frequentare le aree di parcheggio nelle ore notturne. Nel parcheggio chiamato alla centrale del latte una notte aveva incontrato il sacrestano che stava fumando una sigaretta. Il nordafricano gli ha chiesto di accendere il sessantenne cremonese uscendo dall'auto per dargli l'accendino. Inavvertitamente ha perso il cellulare cadutogli dalla tasca dei pantaloni. Il giovane se ne appropriava raccogliendolo da terra e dopo aver detto a sessantenne di averlo riconosciuto come sacrestano di una chiesa di Cremona gli diceva che non gli avrebbe restituito il telefonino se non dopo averlo ricevuto una somma di 1500 euro altrimenti avrebbe telefonato ad alcuni contatti della sua rubrica per rivelare che lo aveva incontrato in una località nota per gli episodi di prostituzione maschile insinuando che pur essendo cattolico e vicino alla chiesa intratteneva rapporti ambigui con dei ragazzi. Il sagrestano terrorizzato dalle minacce per la conseguenza sui familiari essendo coniugato accettava di versare i 1500 euro ma il tunisino una volta restituito il telefonino in un incontro in una piazza di Cremona ne chiedeva altrettanti sostenendo di aver copiato i contatti della rubrica e minacciando di nuovo di fare scottanti rivelazioni. Il tunisino nulla facente anche se regolare sul territorio italiano continuava lo stilicidio di richieste di denaro dicendo che altrimenti avrebbe fatto una scenata in chiesa finché il sagrestano si rivolgeva ai carabinieri che hanno compiuto l'arresto martedì 1 maggio mentre il nordafricano riceveva altri 150 euro da sessantenne cremonese. L'arresto è stato convalidato dal magistrato, l'immigratola si trova nel carcere di Cadelferro.